Un coro unanime di no si leva dalla Sicilia sulla possibilità che quattro siti sull'isola possano ospitare rifiuti radioattivi. A scatenare le reazioni nel mondo politico delle associazioni e della società civile la pubblicazione della carta nazionale delle aree potenzialmente edonee, il progetto preliminare e i documenti correlati per la costruzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi a basse e medie attività. Il via libera con il nulla osta del ministero dello sviluppo e del ministero dell'ambiente alla SOGIN, società statale incaricata dello smantellamento degli impianti nucleari italiani e della gestione messa in sicurezza dei relativi rifiuti, è arrivato nei giorni scorsi. 67 siti ritenuti potenzialmente idoni ad ospitare rifiuti radioattivi individuati in Piemonte, Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Sardegna e Sicilia dove comuni interessati sono Trapani, Calatafimi, Segesta, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Butera. Si apre ora per due mesi la fase di consultazione dei documenti all'esito della quale si terrà nei quattro mesi successivi il seminario nazionale con l'apertura del dibattito pubblico che vede la partecipazione di enti locali, associazioni di categoria, sindacati, università ed enti di ricerca e durante il quale saranno approfonditi tutti gli aspetti. Ai territori che ospiteranno il deposito nazionale è riconosciuto dalla normativa un contributo di natura economica con modalità che gli enti locali interessati potranno regolare con una specifica convenzione con Sogin. Ma i siciliani dicono no e non si è fatta attendere anche la netta presa di posizione del presidente della regione nell'Omusumeci. Siamo pronti a dimostrare che l'individuazione dei quattro siti siciliani che dovrebbero ospitare rifiuti radioattivi è scelta che possiamo confutare. Il governatore siciliano ha convocato già per oggi pomeriggio la giunta di governo che darà mandato ad un gruppo di esperti con il coinvolgimento delle quattro università siciliane per predisporre un dossier che evidenzi la superficialità dei criteri utilizzati dal ministero per l'ambiente nella scelta dei siti. La Sicilia per la sua vocazione, specificità e condizione ha bisogno di ben altro, tuona Musumeci. Abbiamo elementi tecnici inoppugnabili per contestare questa scelta in contrasto con tutti gli indicatori fisici, sociali, economici e culturali dell'isola e lo faremo anche con il coinvolgimento dei comuni interessati che condividono le nostre preoccupazioni. La Sicilia ha aggiunto Musumeci anche per la sua alta vulnerabilità sismica e per la disastrosa condizione della viabilità interna su cui la regione non ha competenza diretta, non può permettersi né di ospitare né di trasportare rifiuti nucleari. Dello stesso tenore le dichiarazioni di Leo Luca Orlando, sindaco della città metropolitana di Palermo, in merito alla costituzione del deposito di scorie nelle Madonie e del vescovo di Cefalù, Giuseppe Marciante, che si schiera apertamente a difesa dei territori individuati nella Carta e dell'integrità del Parco regionale che fa parte del circuito dell'European Geopark e che conserva nella propria area oltre il 50% del patrimonio di biodiversità presente nell'intero Mediterraneo, evidenza il Vescovo. E già all'opera invece il presidente del Parco delle Madonie, Angelo Merlino. Stiamo lavorando con le istituzioni preposte per individuare i criteri adottati e comprendere meglio quali sono le possibili implicazioni. Convocherò per la prossima settimana, anticipa Merlino, un consiglio del Parco aperto a tutti i sindaci del comprensorio Madonita e non solo ai sindaci dei comuni ricadenti nei confini del Parco per trovare una strategia comune e redigere in questa prima fase consultiva un documento di risposta. E non è da escludere che nelle prossime settimane i rappresentanti di tutti i parchi e delle aree protette dell'isola possano fare fronte comune per stoppare la creazione dei depositi sull'isola.